le ragazze sono belle le ragazze sono belle le ragazze sono belle maledette quelle trelle e io sono il presidente e voglio comprare e io vi spiego tutto come si fa siamo in questo video qua per parlare un pochino cosa devo dire cosa devo dire insomma non sei solo bella ragazzi qui è abelman bello il mio canale siamo in questo video su su hello name room demo pre alfa visto che l'alfa 3 non ce l'ho non so perchè o devo avere qualche diritto non lo so ma vabbè siamo sulla questo demo oh madonna ragazzi allora praticamente questo gioco consiste tu sei qua vivi in questa casa questo sarebbe il tuo vicino di casa che questo gioco poi lo potremo sul canale che questo è un gran gioco ehm qui sono i tuoi oggetti ehm la tua tv ehm vedi quindi tu puoi prendere gli oggetti e spaccarli allora il nostro obiettivo è di venire in casa sua fuori da casa sua fuori da casa mia venire in casa sua questo è aspetta ehm ehm niente prendete gli oggetti così li butti per terra ehm il nostro obiettivo è di scappare qua però manz madonna ah vabbè questo oggi sarebbe 89 eh devo dirlo perchè le sue estensioni vanno dette cioè non è giusto dire manz perchè non è inventato da me eh eh e noi dobbiamo sbloccare quella porta che a quanto poi non si può cioè io non lo so e e poi inventare nuovi tiempi a reinventarnos di 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 l l st che o questo è che questo è c' aspettare sotto anche il gioco è Pazzita Qui ci sono le trappole o No, ovviamente ti prego Mi apporta chiusa mia beccata Poi qua poi il bello che io se prendo questa tv me la porto in casa in casa mia Perché voglio guardare la tv me la metto qui Così bella fiera per terra non mi guardo anch'io la partita e accendo Reinventando de desaparecer e creare un nuovo sistema moderno efficace già e poi se il rapporto con sé Ma cosa succede E' mia la tv qua e che cazzo vuole la tv è mia e la tv è mia la tv è mia E poi ti butta qua il E poi ti butta qua il Porca dio Ostia Ostia corri dio Corri 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 Porca dio corri 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 stronzo Dio Corri porca dio Che c'è più elementi Oh Ma dio cristo tua madre veramente dio 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 Oh io non ce la faccio giocare più sto gioco di merda proprio ma chi l'ha fatto sto gioco di merda No vabbè un gran gioco dai c'è Fa paura Cazzo che slenderman E' una cosa l'ho aperta Mamma mia son da sotto Approvalvo Allora Io ragazzi devo spengere Ho adesso si vede decisamente molto meglio Oh porco dio Porco dio Oh porca puttana Stronzo Però guarda Così non vedo niente No giuro così non si vede niente Porca puttana Sapevo che viene E come come Devo raccogliere quella luce di merda Aspetta ragazzi devo spegnere E adesso il bello ragazzi Qua Mamma mia Piermenti La hai inventato Stai Desaparece De parque Un nuovo sistema Modal Modificare Que ya Se entiende Por todas Oh I'm bad Escuchas 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 Bueno y muchas cosas mas Impazzito Però quando vengo Manz C'è quando si gira Mi prende In quella direzione Non va più Adesso mi prende Eh vabbè Che pareva No ragazzi ma questo è Questa è la cosa più brutta Che ti può cadere Che sei più No dai ma come Oh Dio Oh Dio Oh Dio E vabbè mi ha preso Piamenti Però ragazzi Questo è il gioco Questa è una demo Io non so come la finire Ragazzi Sì c'è veramente Oh Dio Come non è aperto Porco Dio Porco Dio Come cazzo è volato No vabbè dai Non mi ha fatto una paura Dio cane Non mi ha visto Porco Dio E volevi Ho 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 Eh Volevi Manz Io voglio guardare la partita ragazzi Qua Qua Io No O se passa la macchina Mamma mia Mamma mia Corri Non ci sono Oddio mamma mia Piermenti Quanto fai ridere Anzi Io non posso guardare la mia Guarda Qua Qua Piermenti 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 Aspetta c'è No Aspetta 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 Oh No 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 Ma porca Miseria Ma dove era Piermenti Dai Vabbè Basta ragazzi Basta 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 Ragazzi Mi sono Dotti Coglioni Spero Sia piaciuto Ero Nebro In Alpha Te Avevo Voglia Che Viene Fuori Questo Gioco Lasciate Commento Mi Piace E Scriviti Non ci vediamo Al prossimo Video Bella Ciao 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 Ciao